Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per l'appuntamento quotidiano con la carta stampata, con i giornali, sfoglieremo insieme le edizioni locali. Bene però prima di fare questo, come sempre, santo del giorno e previsioni del tempo prima, oggi è sabato 13 febbraio, Beato Giordano di Sassonia, domenicano, il sole è sorto alle 7.10 e tramonterà alle 17.55, vediamo come si presenterà il fine settimana, partiamo da oggi, sabato il cielo è nuvoloso, con addensamenti più intensi sui settori interni, precipitazioni ci saranno deboli, sparse sui settori interni e locali verso la fascia costiera, in particolare in quella centro-settentrionale. Il limite delle nevicate, vedete che compare la simbologia, è verso i 1.500 metri, le temperature sono in lieve aumento, guardiamo la giornata di domani, domenica, sostanzialmente non cambia molto lo schema, il cielo è parzialmente nuvoloso, compare la simbologia della pioggia, ci saranno precipitazioni deboli, sparse e il limite delle nevicate però sale oltre i 2.000 metri, le temperature in marcato aumento, quindi ci sarà un aumento sensibile delle temperature. Lunedì, primo giorno della settimana, anche questo all'insegna della variabilità, vedete simbologia della pioggia diffusa su tutta la regione, il sole fa un po' più capolino da Ancona in giù, nuvoloso, molto nuvoloso durante la prima parte della giornata, però precipitazioni diffuse e temperature stazionali. E questa è la previsione per le 48 ore, poi c'è anche quella di lunedì, ma insomma vediamo l'evoluzione del tempo, quella che sarà all'inizio della settimana. Partiamo dai giornali, il resto del Carlino e Corriere Adriatico, messaggero quest'oggi non c'è, problemi anche questa mattina con la piattaforma, però la giornata di ieri è stata caratterizzata da incidenti stradali gravi, gravissimi, che hanno portato anche al decesso dei suoi occupanti, una giornata pesante sul fronte del traffico e anche molta cronaca. Partiamo subito dalle pagine del resto del Carlino, che dedica due pagine all'incidente a Calagostina di Fermignano, due ampie pagine, la 2 e la 3, dove si ripercorre anche con immagini, con foto, quella che è stata veramente una mattinata pesantissima. Due bambini sono morti, 6 anni e 13 anni all'interno dell'autovettura guidata dal padre, in questo articolo del resto del Carlino c'è la dinamica dell'incidente. Travolta la Ford nella quale viaggiavano, da una macchina che veniva nel senso opposto, feriti gravemente anche gli altri tre occupanti. Travolta la Ford che invade l'altra corsia per le due sorelline, non c'è scampo, il fratellino di 11 mesi, lotta per la vita. La dinamica è ripercorsa nell'articolo del resto del Carlino, praticamente la Focus a causa, pare, del manto stradale reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo, in una curva, in una semicurva, ha invaso la corsia opposta, si è intraversata ed è stata centrata in pieno da un'altra auto, una Fiat Punto guidata da Tonino, schiaratura di 55 anni, di Sant'Angelo, invado e all'interno tre persone, la moglie e la sorella. Vedete, questo è il punto dell'impatto, dove stanno lavorando in questo momento i vigili del fuoco, proprio sulla fiancata. Il bimbo più piccolo era assicurato al seggiolino, padre e madre sulla parte anteriore dell'autovettura avevano le cinture, i due bambini dietro non erano assicurati in nessun modo e hanno subito le conseguenze peggiori. L'importanza viene rimarcata da questo incidente l'importanza di essere sempre assicurati all'interno della vettura, comunque ci si trovi sia in posizione anteriore che in posizione posteriore. Vedremo anche l'altro quotidiano che riporta la dinamica di questo incidente, lo vedremo dopo. Parliamo di furti e vi dicevo la cronaca, ampia pagina della cronaca questa mattina sui giornali, allarme sicurezza siamo sempre a Pesaro sulla Monte Labattese, presi di mira tutta la fascia che va dal Galo di Petriano, nella Monte Labattese, sono entrati nuovamente a Linea Verde, all'Arzilla e colpo bis al distributore Kuwait, il gestore riassortisce le sigarette e subito scatta una nuova razzia, furti a raffica nel Milino anche le aziende del Gallo. Vedete qui nelle foto il punto di accesso dove è stato divelto il vetro che è qui a terra, poi i danni nell'azienda e anche le macchinette prese di mira dai malviventi, dai ladri, perché all'interno ci sono naturalmente soldi e quant'altro, quindi insomma razzie nella giornata di ieri. E cronaca dicevo, cronaca però giudiziaria, anche presente nelle pagine del resto del Carlino, l'intuito e insomma l'occhio scaltro e vigile di un carabiniere ha fatto sì che fosse assicurato nella giornata di ieri il picchiatore dell'aggressione al parco Miralfiore. Quella camminata un po' così è questo che ha tradito il picchiatore romeno, confermato il fermo del giovane che ha mandato in coma un sessantasettenne per portargli via 250 euro il portafoglio. Ecco nella foto del riquadro il fermato e i carabinieri che indagavano sul posto, ci sono anche immagini delle telecamere della videosorveglianza che ha fatto sì che questa camminata un po' particolare destasse l'attenzione dei due carabinieri del nucleo operativo radiomobile che lo hanno individuato e lo hanno fermato. E quindi insomma conoscenza del territorio e scaltrezza investigativa intuito hanno fatto sì che questi due agenti mettessero gli occhi su questo picchiatore. Andiamo a Fano con le pagine del Rescolto del Calino, vi porto a Fano il monito del Vescovo per salvare la sanità. Monsignor Trasarti scende in campo, non guardare ai numeri dice ma alle esigenze del territorio. Questo è il suo messaggio. E poi qui di spalla il sindaco chirurgia pronta l'ordinanza. Quindi si parla di sanità nella prima pagina del resto del Carlino di Fano. E poi si ritorna a parlare delle foibe, si ritorna al liceo scientifico Torelli per quella PS Performance che si è tenuta nel cortile antistante, appunto nel giorno della memoria. Risposta del preside Giombi che replica alla professoressa Santoro che gli dice nessuna censura sulle foibe. Il capo di istituto dice abbiamo solo limitato i testi per una questione di tempo. Anche Montalbini fa una considerazione perché abbiamo proposto a Lampi di pensare ai martiri di Tito ma senza avere una risposta. I morti non hanno colore politico, se sono morti sono morti. Camera di commercio si è concluso il progetto con la consegna del materiale legalità e lotta alla contraffazione. L'istituto Olivetti c'è. L'ultima pagina che vi faccio vedere del resto del Carlino parla, come vi dicevo, del secondo incidente mortale nella giornata di ieri dove ha perso la vita una signora, una donna anziana di 78 anni che viaggiava all'interno di questa macchinina, sono quelle macchinine 50 senza patente che sono praticamente dei ciclomotori ma hanno una carrozzeria molto debole, sono in vetroresina spesso, insomma quindi comunque viaggiava a bordo di questa automobilina e un furgone gli balza a contro perché perde l'aderenza anche lui e in una curva si intraversa e finisce contro l'auto, muore una pensionata al volante dell'auto sull'ungarina, tragico incidente, muore Bruna Albanesi di 78 anni, vedete proprio il momento in cui c'è stato come è avvenuto l'impatto, urto contro il muretto, hanno picchiato con il furgone contro il muretto due muratori albanesi alla guida dell'autocarro che si è sollevato in aria ed è rimbalzato sull'auto della povera signora Bruna di 78 anni. Cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico che anche nella pagina di Pesaro, anche lui riprende il tragico schianto dove muoiono appunto due bambine. È gravissima la mamma che era al lato, nel lato passeggero guidava il padre, l'autovettura e il fratellino, insomma sono gravissimi tutte e due, il fratellino però era assicurato come vi dicevo al seggiolino per bambini. Il violento impatto appunto sono state nel violento impatto coinvolte tre vetture, oltre alle due che si sono impattate ce n'è anche una terza. Insomma immagini eloquenti dei vigili del fuoco che lavorano sulle auto per estrarre i corpi. Dall'ospedale altre tre persone, tra cui un disabile, appunto sono finiti all'ospedale, illesa l'altra ragazza che era al volante della terza vettura coinvolta nello schianto. Insomma la donna ora è in coma a Torrette e il piccolo al Salesi e in prognosi riservata. Gli altri due componenti della famiglia, insomma una tragedia, una famiglia distrutta per il manto stradale viscito nella giornata di ieri. Anche qui nelle pagine del Corriere Adriatico picchia sangue un anziano arrestato, smascherato, colui che ha ridotto in fin di vita quasi un 67enne per rubare il portafoglio, in cielo ha finito questo rumeno di 23 anni. La vittima qui nelle pagine del Corriere viene riportata, appunto è rimasta in coma per dieci giorni, solo ieri i medici del San Salvatore hanno sciolto la prognosi. Adesso vi porto nell'altra pagina del Corriere Adriatico, quella che riguarda Fano e anche qui riportata la considerazione di Monsignor Trasarti, sanità non solo numeri ma territorio. Invita la politica, il vescovo a superare il metodo ragionieristico, quindi non a fare solo una questione di conto e tira anche una stoccata a Ceriscioli. Tagli per 100.000 euro a sport e giovani, i tagli lineari hanno però messo, come dire, pensato come macigni nel settore delle politiche giovanili e dello sport, però l'assessore del Bianco annuncia un finanziamento per il centro di aggregazione in soddisfazione dei 5 Stelle per questo, ma dopo vi farò vedere anche un altro articolo di una bella pagina di solidarietà che insomma si è verificata nel nostro territorio. Poi l'Africa chiama un San Valentino diverso, chiesto un aiuto al centro mamma e bimbo, un San Valentino alternativo dal punto di vista anche della gazzettistica e dei regali per rendere solidare anche questo giorno, il giorno di domani. Allora si parla di riqualificazione del centro nelle pagine del Corriere Adriatico, siamo sempre a Fano e siamo nella via Garibaldi, una via centralissima, lunedì c'è un incontro della Giunta con i residenti e i commercianti di via Garibaldi, riqualificazione del centro, restituire dignità a una zona abitata che da lavoro, questo è l'obiettivo della riqualificazione di via Garibaldi. Sarà migliorato l'arredo urbano della strada, lavori anche alla terrazza della Darsena Borghese, insomma l'assessore Fanesi ha annunciato un restyling di tanti punti cruciali della città di Fano per renderla più bella anche in vista del periodo estivo. Vandali nella notte imbrattano con lo spray la frazione di torrette, presi di mira pareti, alberi e cassonetti, insomma si sono divertiti in questo modo molto costruttivo, lasciate anche espressioni oscene il rammarico di un operatore. Dispiace vedere che c'è chi sporca anziché fare cose più intelligenti e più costruttive. Ed ecco la pagina che vi dicevo di solidarietà, iniziativa del Rock Taract Valle del Metauro, che con una cena di beneficenza sotto il periodo di carnevale, Carnival Party, dove sono affluiti 300 giovani di Fano e della Vallata, hanno fatto sì che si raccogliesse una cifra di 700 euro che ha permesso a una squadra di calcio a 5 di ipovedenti di avere forniture sportive, quindi borse, divise, maglie, insomma è questa una bella pagina di solidarietà per permettere a questi ragazzi di integrarsi ancora molto di più. Parliamo, nel articolo c'è l'intervista alla responsabile dell'Unione italiana cecchi e ipovedenti che a Fano sono quasi 500 tra proprio cecchi e non vedenti. Turismo, una questione di sinergie, si parla appunto di turismo, nelle pagine del Corriere Adriatico l'associazione Bagnini incontra Taltale e Rapa perché vogliono entrare nel sistema Pesaro e Fano in virtù dell'approssimarsi della bella stagione. Poi a Mondolfo due giorni non stop per parlare ai Democrat, il PD, anche perché Mondolfo con altre realtà a giugno andrà al voto. Ultima pagina che vi faccio vedere è quella di Senigallia, vediamo cosa succede anche a Senigallia, si parla di ZTL, navetta e parcheggi. I commercianti saliranno dal sindaco preoccupati per il futuro di Piazza Garibaldi e per la viabilità. Piazza Garibaldi è quella piazza proprio nel cuore di Senigallia, vedete sta subendo un restyling importante, tutta una pavimentazione, insomma c'è un progetto importante, però insomma si vuole capire da parte di quanti vi abitano e di quanti vi lavorano quale sarà il futuro, come verrà gestito questo aspetto e quindi insomma con Fartigianato dice è necessario fare chiarezza sull'area di sosta, perché questa in realtà era una vasta zona di parcheggio che chiaramente serviva a tutto il centro storico di Senigallia, insomma venendo meno si teme un mancato afflusso nel centro storico di persone, insomma vedete quanto è grande quindi immaginatevi quante auto vi ci potevano stare. E poi vi lascio con l'ultima notizia, attenzione, il truffatore gli ha chiesto 1500 euro e gli ha clonato il profilo, ricatto hard su Facebook, è un giovane papà e minacciava di mettere appunto in rete fotomontaggi e appunto si chiama rete non a caso, la rete insomma alle volte ci si può rimanere impigliati. Bene, grazie, questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere del Corriere Adriatico per l'arsena stampa di questa mattina, Occhio ai giornali torna lunedì mattina alle 7.30 naturalmente puntualmente e questa sera occhio alla notizia ma c'è sempre la nostra pagina Facebook e il nostro sito Inter per rimanere collegati e sulle notizie. Grazie, buon sabato, buon fine settimana a tutti voi.